hola a todos io sono cronox ben ritrovati nel mio canale come sempre nel primo commento vi lascio il link al giveaway che è del tutto gratis quindi mi raccomando partecipate che a tutti partecipanti vi farò vedere il vincitore in più vi ricordo che nel primo link trovate quello per donare nel caso vogliate supportare il cronox nazionale ma adesso passiamo subito in game eccoci cari stavolta con la zarina di quartiere rifugio insanguinato ottimo mi gusta come mappa rispetto a palude e cose del genere qui c'è un gen vai dwight c'è pure il perk per fare il jump più veloce n'è cacciatrice quant'è convinta giro giro tondo ma ok lol si è arrese ottima scelta cacciatrice la fine vostro gen sta sfrecciando guarda controllo le white ci ha lasciati ottimo di essere in tre C'è un reatore finito C'è un altro qui Però non conviene farli tutti vicini Altrimenti trigeniamo Cosa abbiamo trovato? Dai mi è spuntata all'improvviso Portacci sua Sì sì Dubbiamente Ancora è convinta? Ha finito l'accetto Vabbè dai almeno gli altri Hanno finito un gen Nel frattempo Ne ci curiamo E niente Rip David Rip il buon David Arrivo Eccolo Eccolo Intanto c'è Borre Time Ottimo Attenzione la schivata del David Di fiducia Ai 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 David Ero storto Mannaggia a me ragazzo Stavo storto Stavo storto Stavo storto Stavo storto Mamma mia che azione del Kronox signori Che azione del Kronox Dai David Eh non ti posso salvare madonna E' quest'altra che mi vuole curare in mezzo ai campi Vai qua Cura cura E rip David Di una sera in due Ce la faranno? Non lo so Ma non avevi visto la botola prima Qua mi sarà impressionato Mi sa che dovrò puntare proprio a quello Dentro è botola Almeno qui Fammi vedere un attimo dov'è E' di là Prova a fare questo gen Ecco che Ha trovato un'ia No Niente Proviamo a fare il gen Noi Ecco Ce l'ha fatta battere Devo dire che durano molto Questi survivors Puoi vedere un attimo Allo shock Se c'è Nemmeno qua Ma dove è sta maledetta botola? Arrivo Ah eccola Eccola qua Perfetto Ma ora lei lo sa che è qui la botola Quello è il problema Ecco Si è fatta ritrovare What the fuck Ma cos'è successo? Dai non era male il timing Mi sa che l'ho sbagliato di mezzo millimetro Mortacci mio Ho sbagliato il timing di mezzo millimetro Niente Oggi con la torcia Faccio prima a togliere baracca Ma non l'ha vista la botola Sai che Ho dimenticato dov'era Ah è qua è qua è qua Ma mia Dei survivors Proprio scarsi Avevo in squadra Poi ho fatto schifo Con la torcia Ma almeno Non sono morto Guarda l'incazzato azzurro Bye bye GG signori